Ben ritrovati amici di Weekend Dance, nuovo punto vendita 12K, il supermercato differente, inaugurazione all'interno del parco commerciale Catania-Qualiano in via Santa Maria Cubito, una grande giornata dedicata alla famiglia. Gabriel Gargo, testimonial di mattina e grande spettacolo di sera con Francesco Cicchella Band e Andrea Sanino. Weekend Dance nei grandi eventi c'è, auguri al nuovo punto vendita 12K a Qualiano, guardate il servizio. Grazie a tutti. Che cosa vi ha colpito dei supermercati 12K questa mattina? Sono prezzi ottimi e praticamente a 12 mesi all'anno sono sempre così. È preparata lei a te? È bellissima, la qualità, la freschezza dei prodotti, poi organizzatissimo, tutto bellissimo, complimenti. Qualità e convenienza sicuramente tutto l'anno, 12 mesi. Preparatissima e tu? Sì, uguale, prezzi eccezionali, ho fatto un giro, qualità altissima, vedo la verdura, la carne, il personale gentilissimo, tutto ok. Insomma ci sono tanti reparti e tante referenze qui dal supermercato di Dotecaro. Auditissimi, bellissimo e nuovissimo. Quindi venite tutti qui da Dotecaro? Sì, sì, 12 mesi all'anno, sempre qui. Bellissimo, soprattutto per l'accoglienza di Gabriel Gargo. Quella è stata su tutte, però chiaramente ci sono tante referenze all'interno, no, per acquistare. Sì, tante offerte, tante promozioni e tanti prezzi convenienti. Do di che allora? Sì, sicuramente. Sì, sicuramente. Sì, sicuramente. Stiamo facendo la spesa C'è il supermercato di Dodeca all'interno del parco commerciale Catana perché c'è convenienza Certo, sempre Quindi glielo consigliamo a tutte le persone che ci stanno guardando da casa di venire qui a quali hanno da Dodeca? Troverete cortesia e roba fresca Lo era già prima di qualità, adesso vedremo sicuramente altra qualità Adesso è Dodeca, che fa rima con qualità Certo Ha fatto un bel rinnovo perché si è ingrandito Per restare Sì, è molto assortito Ci sono tanti prodotti Molti Tu dove abiti? Marano Quindi sei vicina, pochi chilometri e arrivi da Dodeca Tutti i giorni, mi raccomando Va benissimo Dode? Dodeca Mancavano, sicuramente mancavano È un supermercato che offre tutto, dà tutto e ad un prezzo eccezionalissimo Tante referenze e prezzi ottimi come dicevano Ottimo come sempre Sempre, sempre Quindi anche il consiglio della signora che si chiama? Giuliana Dodeca, a quali hanno all'interno del parco commerciale Catania? Buona spesa Grazie Grazie Sapevi di questa inaugurazione, no? Lo sapevo, lo sapevo e sono molto contenta di esserci stata È stata una bella Una bella emozione Sì Poi chiaramente è un supermercato che mancava qui a Qualiano E ti piace architettonicamente come strutturato, le referenze, i prodotti? Sì, mi piace molto Adesso sto facendo un giro perché ho intenzione di fare una bella spesa Riempiamo il carrello allora? Certamente Dodeca 12 mesi di qualità Qualità E' un bellissimo supermercato, veniamo da tanto tempo Ci sono tante offerte Tante offerte, ci sono il personale qualificato, è molto garbato, è tutto Viva Dodeca Viva Dodeca Tu accompagni mamma o mamma accompagna te? Io accompagno mamma Ma che figlia Allora, perché bisogna venire qua? Che cosa ti ha colpito di questo nuovo supermercato? Veramente adesso, lo sto vedendo oggi, bello, molto attrezzato Tanti prodotti? Sì, sì, tanti prodotti Anche la struttura è molto particolare Molto particolare, bellissima Ti piace questo supermercato? Sì, sì, molto Quindi accompagnerai spesso la mamma Sì, spesso, anche perché comunque veniamo spesso, anche di fronte al centro E quindi ci fermiamo qui per comprare qualcosa Finalmente il grande giorno è arrivato, anche se è sera perché lo spettacolo continua ancora Al nuovo punto vendita Dodeca, il supermercato differente all'interno del parco commerciale Catania Via Santa Maria Cubi da Qualiano Antonio Catania, complimenti e auguri per tutto quello che hai realizzato Grazie Dino, i tuoi complimenti fanno piacere Anche perché c'è un grosso lavoro di tutti i miei collaboratori Anzi, li ringrazio pubblicamente, sono stati straordinari Abbiamo fatto questo cambio in segna con Dodeca Ci proveniamo sul mercato in maniera differente Con prezzi convenienti tutto l'anno, tutti i giorni Prodotti freschissimi Qualità eccezionale E con una grande, grande, grande accoglienza Soprattutto quella È detto veramente tutto Antonello E poi grandi ospiti Invitati da te da Gabriel Garco Come testimone per il taglio questa mattina del nastro Andrea Sannino Francesco Cicchella Che si sta ancora resi bene Insomma, un bel regalo ai tuoi futuri clienti In effetti è stato un omaggio Che abbiamo voluto fare Ai, diciamo, nostri vecchi clienti E chiaramente, sicuramente anche ai nuovi Se diventai che ormai sei forte Chiuderai tutte le porte Ridendo troverai una scusa Una in più E' un contentissimo ritardo sotto casa Io che ti aspettavo Stringimi la mano E poi partiamo in fondo E' contentissima Quando guardando Amsterdam Non ti importava Non mi pioggia che cadeva Sono una cantera bellissima Il ricordo del ricordo del ricordo del ricordo del ricordo Oh! No, 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 scusate Non è colpa mia, no, scusate Ma di chi è? E' Tiziano Ferro con Catacoscini Laura, buonasera Ciao, buonasera Insomma, una bella serata per l'inaugurazione di questo nuovo punto vendita Dodeca all'interno del parco commerciale Catania Qui a Qualiano Eh sì, questa volta ci siamo superati Da stamattina che facciamo festa E' arrivata anche a Qualiano la felicità Anche a Qualiano è arrivato Dodeca Siamo felicissimi da Gabriel Garco stamattina E poi stasera con questo spettacolo, questo concerto E' tutto veramente molto bello A Sannino, a Cicchella Insomma, un bel regalo per i clienti vecchi E soprattutto per i nuovi clienti di Dodeca Soprattutto per i nuovi, le aspettiamo Le aspettiamo anche eccezionalmente Con un buono di 5 euro Che possono spendere fino al 15 aprile Nel punto vendita a Dodeca di Qualiano E insomma, è incominciata una nuova esperienza Questa è la quarta Dopo Caserta, Parcaturo, quarto Abbiamo aperto anche a Qualiano Ed è un supermercato differente da venire a scoprire assolutamente Continuate a guardare le immagini Dodeca ti aspetta Assolutamente, Dodeca ti porta alla felicità Dodeca ti aspetta Dodeca ti aspetta Dodeca ti aspetta C'è la nostra paura a pensare di buon ammurato e che si rita l'amorato Ondai prendo la cantata per il solo per te, mentre il nome si cede Dai si spagli in parole, non succede niente da parte, mi torna il cuore Ma sono davvero a lei, sono pazza che sono pazza e tu Scarebbe ne ma ti pesci tu, non puoi scermi da te tu E ancora si, abbraccia i vecchi tu, e ti va a riservi Lo show continua per la grande inaugurazione del nuovo punto vendita Dodeca, il supermercato differente qui in via Santa Maria Cubita Qualiana all'interno del parco commerciale Catania con una grande presenza Andrea Sannino Dino è sempre un grande piacere vederti poi voglio dire in occasione di questa inaugurazione un centro commerciale bellissimo, tantissima gente quindi per me è un piacere Lo so che è un piacere però ci deve essere Sannino questa sera no? Ci deve essere lo spettacolo che mi sta venendo un po' in giro per la campania con tanta gioia perché ogni volta che cantano praticamente la cantano più loro che io ed è sempre un'emozione Assolutamente quindi la gioia delle Tenerges e non solo della famiglia perché il centro commerciale Dodeca è per la famiglia il centro commerciale Io canto l'amore, il centro commerciale è per la famiglia quindi amore e famiglia è un connubio perfetto E poi mi dai l'assist caro fratellino parlando di famiglia il 2 luglio, il 2 luglio è una grande festa, non diciamo nulla Il 2 luglio è una grande festa importante, la famiglia si allarga È alla base la famiglia Perfetto Un abbraccio forte, ciao